E come? Ma come cazzo pensi di crescere? Se lo fai ancora, ci possiamo sposare. Il tempo di fare i documenti ci sposiamo. Te lo dico davvero, non dico per dire. Pensi a nostra figlia. Riusciremo a ricominciare, basta che lo vogliamo. Ci sposeremo e saremo felici. E dai. Perché non riesco ad odiarti, perché? Siamo fatti pestare insieme a noi due. Vedrai. Eccoti qui. Decidi che la fase dell'eterna adolescenza è finita e che è ora di crescere. E crescerai. E allora tutto cambia. E questa volta cambierà. Avrai una casa più grande, la piscina, il garage col posto auto e il prato sempre curato. Il portico fiorito e le porte smaltate. Il cane che chiamerai Marx e la barca che chiamerai Giulio. Avrai la salute assicurata, la vita assicurata. Il frigorifero sempre pieno per non sentirti povero. Un tappeto etnico per continuare a sentirti giovane. E finestra da cui entra sempre il sole. E allora avrai la tua famiglia felice. I tuoi bambini in salute. E lei. Avrai lei. Che ti ricorderà tutte le cose belle che avrai avuto. Non è questo quello che hai sempre sognato.